Lautaro Martinez, attualmente uno dei giocatori chiave dell'Inter e considerato un leader tecnico e capitano, sarà premiato con un rinnovo contrattuale. Il suo attuale contratto prevede uno stipendio di 6,2 milioni di euro a stagione più premi fino al 2026. Tuttavia, data la sua crescente importanza nella squadra, la dirigenza dell'Inter desidera premiarlo ulteriormente. L'agente di Martinez, Alejandro Camano, aveva già espresso la volontà di discutere del futuro contrattuale del giocatore dopo un incontro con la dirigenza dell'Inter lo scorso agosto. Martinez sembra felice nell'attuale contesto nerazzurro, ma la squadra desidera rafforzare il suo legame con il club. La proposta per il rinnovo contrattuale dovrebbe essere di circa 7 a 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2028. Questa offerta sarà presentata alla gente nelle prossime settimane, e le probabilità di accettazione sembrano essere alte. Martinez è considerato un simbolo dell'Inter oltre che un importante asset finanziario, e il club vuole assicurarsi che rimanga a Milano per molti anni a venire. Nonostante l'Inter abbia respinto offerte finanziariamente allettanti da club arabi in passato, esiste sempre il rischio di ricevere offerte dalla Premier League o dalla Liga in futuro, che potrebbero essere allettanti sia dal punto di vista economico che tecnico. Quindi, il rinnovo contrattuale è un modo per blindare ulteriormente Martinez e riconoscere la sua importanza nella squadra.